Amici sportivi, a tutti voi un cordiale saluto e ben ritrovati per il notiziario sportivo del TG Noi. Lo vedete già inquadrato, siamo in compagnia di Riccardo Pera, il pilota, giovane pilota lucchese che partecipa anche quest'anno al campionato del mondo Endurance. Naturalmente avremo poi servizi, avremo poi altri contributi. Prima domanda Riccardo, intanto grazie di aver accettato il nostro invito perché sappiamo se è in partenza per Monza. Un bilancio di questa prima parte del mondiale Endurance 2022? Intanto ciao a tutti, Guido insomma, il bilancio fino adesso direi molto positivo perché nelle prime due gare abbiamo avuto un ottimo potenziale e quindi andavamo veramente forte, quindi direi che soprattutto nella gara di Le Mans dove abbiamo sferato il podio e soprattutto nella gara di Spa, la sei ore di Spa che abbiamo fatto a maggio, insomma direi che il potenziale c'era e siamo molto contenti e speriamo di continuare così. Ci sono certezze nel mondo dello sport come Riccardo Pera e la sua partecipazione al mondiale Endurance. In questo momento Riccardo ce ne sono meno sul fronte del calcio e sul fronte della lucchese dove ci apprestiamo a vivere ore e giornate decisive. Abbiamo preparato questo servizio. Ormai ci siamo. Quelle che verranno saranno ore cruciali e determinanti per il futuro della lucchese. L'imprenditore australiano Unix Calia è in arrivo anche se continuano a segnalarci al momento due opzioni per la cessione della società rossonera. Nel frattempo, lunedì pomeriggio, gli attuali dirigenti della lucchese hanno incontrato il neosindaco Mario Pardini che da primo cittadino è stato opportunamente messo al corrente degli sviluppi. Una cessione, e lo abbiamo detto più volte, che porterà ad una vera svolta e a una rivoluzione sul piano tecnico. I nuovi padroni della Pantera vorranno mettere i loro uomini nei ruoli chiave mentre della vecchia guardia potrebbe avere un ruolo anche di rilievo il solo Bruno Russo. Molti sportivi si chiedono come sarà la squadra che andrà allestita e che entro una decina di giorni dovrebbe iniziare la preparazione sul sito del Modena annunciata amichevole del 23 luglio, anche se i tempi magari andranno ricalibrati. Pagliuca ha tolto il disturbo e si è accasato al Siena e quindi una delle prime cose da fare sarà quella di scegliere il nuovo allenatore. Circolano i nomi di Amelia, ma soprattutto di Modesto. In realtà, volendo, non si ripartirà proprio da zero. Sono infatti ben 12 calciatori attualmente sotto contratto tanto che li abbiamo messi in grafiche con una ipotetica formazione col solo Cucchietti, portiere, che non vedete comparire. Evidente però che magari diversi di questi che pure hanno il contratto colette a Bacchini e Panati addirittura fino al 2024 decidano di non rimanere. Se ne vince, che gioco forza, la Lucchese 22-23 in base anche alle idee del nuovo allenatore ripartirà da zero o quasi. Lo vedremo tra pochi giorni. Caldi ed intensi per la vecchia e gloriosa Pantera. Diamo altre due notizie di Calcio Mercato prima di tornare al nostro gradito ospite. Prosegue la campagna acquisti. Siamo in Serie D del nuovo Givi Borgo targato Massimo Maccarone. La società della Mediavalle ha ingaggiato il terzino sinistro Davide Seminara, classe 1998, cresciuto nel settore giovanile dell'Empoli. Il calciatore ha giocato lo scorso anno una stagione a metà tra Pianese e Pro Livorno-Sorgenti. Intanto l'inizio del ritiro del Givi Borgo è fissato per lunedì 25 luglio. Scendiamo in eccellenza e alla fine il camaiore ha scelto Luca Polzella come nuovo allenatore per la stagione 22-23. Un fine settimana di riflessione per i dirigenti Blu Amaranto e la decisione di affidare la panchina all'ex tecnico del Cascina. Riccardo Pera, segui il calcio? Ma insomma, direi di sì perché è uno sport che mi piace. Io tifo Milan, se posso dirlo. E quindi sarai contento. E quindi sì, certo. Senti, dicevi di Le Mans il podio sfiorato due anni fa hai fatto un indimenticabile secondo posto quest'anno siete arrivati quarti. Eh sì Guido, ti dico la verità sfiorare un'altra volta al podio è stata un'esperienza un po' amara però devo dire che sono molto contento perché insomma essere a Le Mans e arrivare nelle prime posizioni è sempre molto soddisfacente. Certo è che quest'anno abbiamo avuto un problema tecnico nella notte che ci ha costretto a rientrare in box e a perdere quei minuti che ci potevano permettere di arrivare al podio però insomma queste sono gare di durata come sappiamo era appunto una 24 ore quindi non sempre vince più veloce bisogna avere un pacchetto tra affidabilità, velocità quindi insomma questa volta andata così ci riproveremo il prossimo anno. Nella corsa mi permetto di dire più famosa, forse più affascinante una notizia di basket anche in questo caso chiamiamolo basket mercato la Gesam Gas e Luce Lucca chiude completa il proprio roster con la giovane anzi possiamo dire giovanissima esterna pensate classe 2006 addirittura più giovane del nostro Riccardo Pera Margherita Tintori guardia alta 1,75 la Tintori è reduce da due stagioni in A2 con il Nico Basket tra l'altro continuerà a giocare quest'anno il Nico Basket è retrocesso in Serie B con la squadra rosa-blu e quindi poi farà parte anche del basket Lemura sicuramente ha neppure 16 anni è una ragazzina molto giovane per la pallavolo altro innesto di spessore nell'organico della Nottolini Capannori presa infatti la forte 1,90 di altezza e giovanissima centrale classe 2004 la Vigna Mariani proveniente dal Volley Road Roma si tratta però di una ragazza Livornese di Venturina è un altro tassello che sta andando a completare una Nottolini molto molto ambiziosa dicevi dicevi del fatto naturalmente di Le Mans però adesso domenica siete a Monza sei ore di Monza allora cosa ti aspetti il vostro obiettivo e naturalmente possiamo dire che corri quasi sul circuito di casa anzi sul circuito di casa eh sì finalmente il campionato del mondo Endurance arriva a Monza quindi insomma è la nostra gara di casa e tenteremo sicuramente di ottenere un buon risultato sarà una gara di durata quindi però sempre questa volta di sei ore invece che ventiquattro quindi è una gara molto più sprint molto più all'attacco quindi senza stare a vedere il consumo delle gomme o della benzina quindi insomma poi soprattutto davanti ai nostri fan davanti alla mia famiglia gli amici sicuramente ci saranno tutti ci saranno tutti cercheremo di fare il nostro meglio tu quest'anno corri per un team inglese esattamente Golf Racing Golf Racing Porsche team di One Right che è il vostro pilota gentleman come ti trovi con One Right come ti trovi con Ben Barker senti che bella pronuncia come ti trovi Ben Barker tra l'altro è anche molto veloce esattamente un team tutto inglese con altri miei due compagni inglesi perché essendo la gara di durata scendiamo il cambio durante la gara sono ragazzi molto bravi anche i meccanici lavorano molto bene la macchina c'è è veloce ci troviamo molto bene insomma speriamo di concludere questa stagione nelle prossime gare dando del nostro meglio allora ginnastica e nuoto per chiudere ritmica girasole in evidenza la Silver Summer Edition 2022 con questa ragazzina Linda Del Debbio classe 2011 che alla fune al cerchio si è laureata campionessa nazionale bene anche Victoria Bagenova classe 2012 parliamo veramente di atlete giovanissime vice campionessa nazionale al nastro pensate per soli 25 millesimi prima di chiudere con Riccardo ci teniamo in modo particolare a ricordare la figura di un grande maestro di nuoto e di vita Luciano Terconi arrivato dall'Istria tanti anni fa ha fondato tanti anni fa l'attività natatoria a Lucca 70 anni di attività agonistica da prima come notatore poi come istruttore allenatore la storia dell'associazione sportiva Gymni Club di Lucca da lui fondata era iniziata pensate è iniziata nel lontano 1972 allora Riccardo l'ultima domanda ancora mondiale endurance per questo 2022 ma da grande Riccardo Pera di cui parliamo sei ancora giovanissimo da diversi anni ma da grande Riccardo Pera cosa vuol fare fermo restando che sei in un circuito molto bello molto interessante sì allora intanto nel correre nel mondiale endurance diciamo è il massimo di cui al momento si può sperare o si può ottenere insomma quindi sono molto contento e fortunato insomma anche grazie ai risultati che ho fatto che ormai questo qui posso chiamarlo il mio lavoro quindi insomma spero di restare di restare in questo ambiente perché ogni gara bisogna dimostrare sempre di andare forte di avere buoni buoni tempi buoni risultati buona velocità e solo grazie a questo riuscirò a stare in questo ambiente quindi insomma incrociamo le dita e speriamo speriamo per il meglio lo speriamo anche noi per te bene ringraziamo Riccardo Pera naturalmente in bocca al lupo per Monza grazie a tutti voi che avete seguito questa edizione un po' particolare del nostro notiziario sportivo tra poco la linea alla terza parte del TG Noi grazie a tutti